ciao a tutti amici di tanta youtube tv sul vostro artist time e visto che vi è piaciuto molto lo scorso video su Cleverboot e vabbè su Evie che è la partitimina di Cleverboot ho deciso di farci anzi di ringrazio per i complimenti che avete fatto, sono contento che vi è piaciuto, ho deciso di fare questo regalo oggi facciamoci questa vecchiera con quest'altro giovanotto che forse è il fidanzato di Evie, lo scopriremo, quindi facciamo le bande andiamo a parlare, innanzitutto vediamo come ti chiamo, ciao gliel'ho già detto prima come ti chiami? un'altra ora mi ammazzo è serena, è serena, ma com'è serena? quindi sei gay? sì, ah ecco, quindi non è fidanzato allora non sei fidanzato evie non ho cambiato risposta sei gay si sono un uomo perché se sei gay non sei un uomo idiota un uomo ma hai un nome da donna e come fai sapere? me l'hai detto tu adesso, cesso me l'hai detto tu adesso, cesso prende che è successo? poi torna cosa è successo? dove è andato? ah ecco allora non possiamo usare il microfono me l'hai? me l'hai? appena detto tu ti chiami estina che ha detto lui non ti non ti l'ho detto? non ti l'ho detto non ti l'ho detto imparare l'italiano ma no vanno come non ti l'ho detto me l'hai detto e come? sì che me l'hai detto brutto cretino e qual'è allora? esterina 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 mi hai detto che è esterina no quello non è assolutamente il mio nome e l'hai detto tu fa un bene giro e allora come ti chiami? allora come chiamarti boybot? carolina ti viene il meglio eh carolina carolina allora è vero che sei chi? sono una ragazza non sei tanto come ti far mai? come ti far mai? ti picchio io non so sono una ragazza ma sei tanto intelligente tu io ne sono stupido perché non ragiono non eh? perché non ragiono non non ragiono lol ah lol lol scusate lol a tutti ragazzi perché se ne fatti le poschie ah sono una ragazza non sei tanto intelligente tu io non sono stupido sono una ragazza però stupido no a me sembravi un ragazzo no una figlia figlia di la patata oh cazzolini ah ecco abbiamo scoperto amici questo è uno scoop che boybot è un trance scusate lo chiediamo sei un trance allora all'opera l'ho scritto allora è un trance è un trance è un trance non ti arrabbiate vabbè c'era ragazzo non va bene sei fidanzata fidanzata cara non ti lo voglio dire non ti lo voglio dire non ti lo voglio dire però non mi è neanche chiesto il mio nome male educata io mi chiamo Aldi Stein se ti interessa se ti interessa saperlo non ci sto a provare non comincerò a fare battutini non fare allora hai dimentito no quando quando lui ti girava io giravo io davanti a te prima quando hai detto prima quando hai detto di essere una persona a parte che non l'ho detto poi io sono una persona a parte che non l'ho detto ma poi io sono una persona e che persona lo so la no non si parla con te e che ti ho fatto e che ti ho fatto male e la prendero tutti con me perché sono piccolo e nero niente odio tutto e tutti ah ecco niente odio tutto e tutti a prescindere ecco ecco si depression no no chi è no anzi sono felicissima sono felicissima sono felicissima sono felicissima meno male avevo detto meno male che sono felicissima con tutti e tutti dai dai focati con lo zio dai focati con lo zio dai focati controlli stanno bene dai perché perché spiegati lo schifo allora perché ti fa bene ma sei un maschio spero io sì sicuro io sì o no io sì wow te l'ho detto prima minchione anzi minchiona Aldi Stein Autostom non so scrivere nemmeno il mio nome vergognati eh mo comincio a fare domani ti matta ti hai ciao la delisa e quanti anni hai è trotto sei sposata? sono maschio a bello no nessuno maschio Napoleone Napoleone cosa? c'ha detto Napoleone Napoleone chi? l'ass 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 non so scrivere basta 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 niente no me lo dici no me lo dici no no dici non so scrivere guardate un attimo che sto registrando si ma io devi sapere da quanto tempo sto registrando l'importante è che sto registrando rispondi lo sai che oggi il mio compleanno ma davvero ma davvero aspetto che dimostro il ca che me ne frega e ti grazie allora tanti auguri a te grazie ringrazio a mare bucato questo è mare bucato ma non mi ringrazio non lo so giù cosa mi? cosa mi ricavi? no no lo so tio vabbè non ci conosciamo neanche che ti devo regalare ecco ti regalo un cacciavite lo vuoi? un cacciavite cacciavite fai dire dove te hanno detto il cacciavite ma non pensa a mare cazzo ma ecco sai io che cosa ti regalo? a me ne? pure compriamo grazie sai io che cosa ti regalo? non essere volgare che mi cancellano il video agli ottobri vedelo che dovevo dire non essere volgare ti spezzolosso del capocollo perché siamo finanziati non siamo finanziati non ne abbiamo soldi perché siamo più cazzati finanziati siamo perché mi do male a me mi piace la patata quella tira non la parerea truccata perché ci sono le donne in particolare perché siamo finanziati no non non lo siamo ma cosa mi regali comunque? e non parlo a pocaccione questo messaggio quale scusa quale non lo siamo non lo siamo non lo siamo non lo siamo ma anche no guarda in serio tipo mi piace la p le nonne lo so cosa mi perdo lo so lo so benissimo e non ci tengo ma che ci faccio io questi cosi io no 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 che ho appena definito no no magari scrivevi io io sono contato e tu sei un bot un botto pesante che tu no sono umano no infatti sei uno sciencato ma sciencato sarà tutta la razza tu bastardo mi voglio lo scrivo anche ma sciencato ti darai tu e tutta la razza tu basti hm si sono un robot si sono un robot si sono un robot sono il micro su un robot su un robot ah bello buono buono riscaldami la cina allora donna di don Ti piace Cristian Sennac? Senni, chi è Cristian Sennac? E' tra l'altro. E' tra l'altro. E' tra l'altro. E' impedito la scontura di... Vediamo ieri. Alla faccio le bicarbonate di suoi. No, ho capito ieri. Sì, sì. Oh, sì, è tanto anche. A te piace l'altro bilanzaro di suoi. Distruggi gli umani. Distruggi gli umani. Ah... E' un po' maschio. Maschione. Come si chiama? E' cominciata la conversazione. E' benissimo, vieni con la musica sotto casa. Aldi Stein. Ben ne ho romanti e io mi chiamo Dellatrix. Io non mi chiamo Bellatrix. Mi chiamo Aldi Stein. Ehm... Ehm... Eppine anche tu ti chiami Bellatrix. Mi chiami Serina. Come ha detto lui? Bellatrix. Saluta i tarta... Amici. E' il polcino vio. 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 Ciao, alla prossima. Guarda qui. Non c'è niente di quello. Ma prendo un coccolone. Guarda li dietro. Guarda. guardati tu dietro e mi sa che a me non ho un rischio e immaginavo ogni giorno pazza lo guardi con l'esperanza di trovarci un bel negrone guardando allo specchio guardando allo specchio certo allo specchio per vedere per vedere se c'è il negrone dietro un negrone dietro mi piace ci parliamo non lo so ma chiudiamo qui alla prossima ciao 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 diciamo a vicenza manda vicenda questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video